Cresce la presenza di Bartoccini, Gioiellerie nel territorio Umbro con l'apertura di un nuovo punto vendita, l'ottavo all'interno dello shopping center Ferratelle a Gubbio recentemente inaugurato. Abbiamo seguito il nostro progetto di espansione in collaborazione con Conard, quindi questo centro commerciale nella città di Gubbio è stato ben accolto perché non eravamo presenti, quindi abbiamo deciso di investire in questo nuovo centro commerciale, in questo nuovo shopping center Ferratelle e crediamo che la posizione sia ottima, sia veramente ben posizionata, il progetto ci sembra molto accattivante e quindi nella nostra idea di seguire Conard abbiamo aderito con gioia a questo progetto. Un nuovo spazio dunque dove trova posto la lunga tradizione orafa che Bartoccini sa esprimere affiancata dall'ampia offerta merceologica di preziosi, dagli orologi ai gioielli, dall'argenteria ai prodotti di moda giovani e moderni, dagli articoli da regalo alle liste nonze. A impreziosire l'attività, Bartoccini è anche centro diamanti per consulenze, valutazioni e certificazioni e laboratorio gemmologico oltre che orafo per la creazione di pezzi unici. Sempre una maggiore presenza sul territorio di Bartoccini, gioielleria e ormai in tante città dell'Umbria con la sua ampia proposta. Sì, questa è la parte nord-est dell'Umbria che ci mancava, quindi abbiamo pensato comunque di coprire con la nostra offerta merceologica, una delle ultime parti dell'Umbria rimaste senza la nostra presenza, quindi crediamo che nell'ottica di sviluppo di comunicazione globale in Umbria sia essenziale questo punto vendita sul sububbio.